Praticamente ogni parcheggio del centro storico di Ferrara, attorno alle ore 11 di venerdì scorso, 6 aprile, era presidiato da parcheggiatori abusivi, una vera e propria piaga. Così il segretario comunale della Lega della città estense, Nicola Lodi, ha definito il fenomeno documentato con foto scattate dai militanti del partito del Carroccio. La Lega chiede così di applicare anche nel comune di Ferrara il decreto sicurezza Minniti, approvato poco più di un anno fa, il quale stabilisce tra l'altro multe più alte per i parcheggiatori abusivi. Abbiamo documentato ogni angolo di Ferrara, per cui non solo centro, da via Bologna fino al Doro. Abbiamo paura per l'attività, per il commercio, per il turismo, per la sicurezza delle famiglie, delle donne che vanno nei parcheggi e vengano inseguite, molestate per avere una moneta. Sono anche certo che dietro a questo sistema c'è un vero e proprio business, un gestisce questi parcheggiatori che molti, a detta di fonti sicure, sono richiedenti asilo. Noi chiediamo a questa amministrazione comunale e quindi al sindaco Tagliani di applicare il decreto, così come hanno fatto altre città simili a Ferrara. Mi viene in mente per prima la città di Como, dove attraverso un'ordinanza del sindaco si mettono dei paletti ben precisi all'accattolaggio molesto, ai clochard e a chi ovviamente recca degrado a questa città e chiediamo anche al prefetto di Ferrara di fare un po' il punto della situazione sul sistema di accattonaggio che c'è nei nostri parcheggi cittadini che a nostro avviso nascondono un'associazione dietro che sfrutta queste persone che vanno a chiedere soldi nei parcheggi di Ferrara davanti ai negozi anche del centro storico. Sarà nostra cura e questo l'abbiamo già detto, chiedere maggiori poteri di vigilanza sul territorio da riconoscere ai sindaci. Vero però che questi sindaci oggi non sono giustificati perché vi sono casi come il bullismo e l'abbiamo visto appunto su tutti i giornali. Non da ultimo ieri, come dicevo, due ragazzini sono stati picchiati nei bagni di un istituto liceale qui di Ferrara e mi sembra appunto che questo fenomeno sia un po' tenuto nell'omertà, chiuso e soprattutto i genitori e le famiglie abbandonate a loro stesse. Vi ha ancora di più e in questo punto chiedo l'aiuto di tutte le istituzioni, quindi procura, questura, prefettura, carabinieri perché vi sono fenomeni che spesso vengono inquadrate erroneamente nel bullismo ma si tratta invece di criminalità minorile.